Bene, buonasera a tutti e benvenuti, non sono una componente della band, ma sono l'assessore alla cultura del comune di San Giorgio Bigarello, quindi vi do il benvenuto e grazie per la vostra presenza in questo luogo meraviglioso che è la Foresta Carpaneta, che continua ad essere la nostra location preferita per gli eventi culturali estivi. Questa sera proponiamo un evento musicale e teatrale insieme, un tributo agli intramontabili Pink Floyd da parte di questa band, i Rolling Wave, che sta qui con me alle mie spalle, che adesso voglio presentarvi, ed è costituita da Enrico Frigo, Alessandro Bucci, Amos Corradi, Paolo Avella e Giuseppe Cancellosi. Grazie e buon concerto a tutti. E nessuno ci fa segno di muoverci e nessuno ci ordina di abbassare lo sguardo, nessuno parla, nessuno cerca, nessuno vuole intorno al sole. Cancellosi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.